Una dichiarazione su tutte, insomma, la dice lunga, quando ha detto sono stanco di sentirmi dire sei bravo, ma attenzione a questa palla dentro per Nestorovski! 1-0 del Palermo, forse nel momento migliore della Samp, al minuto 60, ancora lui, Nestorovski, terzo gol in quattro partite e non si ferma più adesso. Contropiede micidiale del Palermo, con il solito al esami sulla sinistra, arrivata adesso anche una munizione.